Poco fa, a porta a porta, il presidente del Brasile Bolsonaro ha parlato a Bruno Vespa della scelta di consegnare Battisti all'Italia. L'intervista integrale andrà in onda stasera, ma ascoltiamo adesso un brano. Quando abbiamo discusso questo processo presso il Supremo Tribunale federale, eravamo favorevoli alla sua estradizione. Purtroppo all'epoca il governo di Lula ha deciso di tenerlo qui. Durante la campagna elettorale ho detto che per quanto dipendeva da me sarebbe stato estradato. Quindi il messaggio che ho lasciato, non una decisione solo mia, considerato che lui dalla Bolivia è andato direttamente in Italia, sarebbe potuto passare dal suolo brasiliano o andare direttamente come è stato. Il messaggio è che il Brasile non sarebbe più stato un territorio rifugio di marginati, di criminali, prigionieri politici. Questo è il mio messaggio e sono molto felice di aver potuto collaborare con tutti i cittadini per bene italiani e brasiliani perché Battisti uscisse da qui e scontasse la pena di crimini commessi negli anni 70.